tempo del cacchio ma noi 87.9 di batteria a litio bro e sta pure caricando sole non ce n'è adesso vi dico una big news allora ragazzi bentornati sul canale di camper jam vabbè che lo sapete quindi memoria piena qui così piena vabbè comunque allora oggi è il 17 gennaio fine mese penso massimo i primi di febbraio più o meno quella data lì ce la sgombiamo fra finalmente dopo quattro mesi nel blocco scendiamo verso il mare c'è un po di tappe da fare devo passare a trovare un po di persone per un saluto sai nel viaggio non è che dovrei fare una tirata fino nelle marche però senso vado sereno piano piano il nonno dovrebbe funzionare alla grande abbiamo preso tutto quello che c'era da prendere e niente si va lì si va al mare anche perché adesso veramente io faccio il riscaldamento spento infatti guarda lo cedo soltanto la sera un po quando fa più freddo perché adesso finché c'è la felpa il cappello di lana sto bene se posso risparmiare risparmi sempre full timer e anche risparmi ragazzi ricordate quindi scenderemo al mare e niente staremo lì un botto di tempo credo tutta l'estate cioè una volta che scendo sto la sto al mare blocco nel cuore faremo una festa non di addio di arrivederci ecco che vedrete nei video che uscirà non so quando magari settimana prossima e niente questa era per aggiornarvi che finalmente dopo mille peripezie mille casini mille storie che ho fatto finalmente siamo pronti a partire ragazzi fine mese salutiamo milano e ci si sposta iniziamo a scendere tanto non c'è fretta non è che devo andare non ho il puntello che devo andare a qualche parte capito cioè vabbè un puntello sì ce l'ho un paio no anzi forse più non ho 4 o 5 di puntello devo andare a beccare il bro ci sono un paio di bro che devo beccare filippo sicuramente ci incontriamo per strada c'è l'altro bro che vuoi l'uno tutto bene che sta vicino a lugo di romagna poi passerò a beccare daniela per un caffè così dai siamo in strada siamo già sentiti forse becco anche ale non lo so perché adesso non sta molto bene quindi vediamo e poi si scende a beccare anche monica con la super daphne questo è l'aggiornamento sono veramente felice perché stare qua è bello si è bello tra virgolette nel senso vabbè poi io sfiderei chiunque a fare il full time per in un parcheggio di cemento ma tanto non lo fa nessuno sono io l'unico che lo fa ci sta un po il mare dai un po ma penso che un anno anno e mezzo mica sto la via come ho fatto l'anno scorso quella che sono tessardè sto via un anno e mezzo e niente salutiamo un po di persone c'è max un po di gente da salutare niente adesso mi faccio da manià perché anche tardi in realtà sono le tre meno un quarto però io di solito mangio quando ho fame non è che siamo pronti per un nuovo viaggio on the road nel nonno camper adesso vediamo se mettere cipolo scalogno ma direi scalogno poi abbiamo riparato qua ci abbiamo messo dentro una barra led vedi che poi entra di qua col tasto dedicato si dai scalogno direi tutta la vita faremo dei fagiolini ah si poi devo passare a salutare devo passare a salutare un batto di gente perché tanto è tutto di strada passerò anche da castro caro terme andiamo a salutare flora anche il è un po di gente finalmente torniamo a muoverci perché veramente ragazzi dovuto sbrigare un botto di roba qua però me la sono cavata quindi l'importante è riuscire a fare le cose ci ho messo quattro mesi andiamo ai fornelli fra e vai c'è una fame regazio pazzesco comunque ragazzi cucinare in camper è livello allievo siamo un po di polpa bio abbiamo messo i fagiolini questo è un po di polpa bio questo è un po di polpa radio chiama è la ragazza che Gesù è una ragazza che all'inizio è un po di polpa ma c'è una fame bro pazzesca poi quando si asciuga un po ci mettiamo il tonno per finire pepe curcuma e un po di soy sauce allora raga non metto il tono perché è già abbastanza così ci siamo alla grande spegniamo mettiamo la curcuma soy sauce un po di pepe ma com'è questa cosa va o no? ma che è? ah si adesso va ching ching parcheggio alieno come sempre ole vai adesso si mangia bro ah c'è il vino là top ragazzi madonna che buono fra madonna buona storia e noi ci vediamo come sempre al prossimo video in viaggio no prima c'era festa vediamo lasciamo un po di suspense ciao 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 Grazie a tutti.